Cappella di San Pietro Petroselli o San Pietro in Vinculis. La chiesa è dedicata a San Pietro in catene ed è una delle parrocchie che nel 1498 fu annessa alla chiesa madre di San Michele Arcangelo. È orientata con la facciata principale al nord del paese e da sud verso il torrente fabbricato dove erano collocati i mulini. La chiesa è ricordata dalla tradizione locale come una delle parrocchie più antiche di Padula. Ha forma rettangolare con soffitto piano senza abside. Ha un piccolo campanile ed una sagrestia. L'interno è ad una sola navata di austera semplicità. La facciata bella e sobria è stata rifatta in tempi recenti. Il portale è del Cinquecento in Pietra di Padula. L'area presbiteriale è stata ristrutturata ed è tutta in marmo. La volta frescata mostra arte e decoro nel rispetto della liturgia e della devozione. Presenta un piccolo transetto ed abside e due altari. Dietro al presbiterio è annessa la sacristia. Al lato corto è appoggiata una tribuna sorretta da due pilastri rettangolari con basamento sul quale era l'organo. La chiesa conserva due notevoli sculture linee, San Pietro e San Paolo, attribuite a Giovanni Danola del 1512, con sei stalli, opera di artigiani locali. La balaustra è in pietra di padula, così come l'altare maggiore della metà del XVIII secolo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.